eccoci qui ragazzi benvenuti nel mio canale sono sprocchio 86 italia faccio questo brevissimo video per annunciarvi una notiziona su case of war judgment si vocifera che il prossimo numero di official xbox magazine verranno annunciati nuove modalità di gioco multiplayer di guys of war sto parlando del tutti contro tutti free for all vediamo cosa dice qui l'articolo offerto gentilmente dal sito mondo xbox.com official xbox magazine ha annunciato che nel prossimo numero della rivista verranno svelati tutti i dettagli della modalità del multiplico obiettivo di givers of war judgment si tratta di tutti contro tutti la classica free for all che da tanto tempo è stata richiesta dalla community ma fino ad oggi non aveva mai trovato il favore degli sviluppatori che desideravano un'esperienza tutta incentivata sul gioco di squadra e sulla cooperazione con questo cambio di lotta sia che questo cambio di lotta sia il segno da parte di epic games di andare incontro all'esigenza degli amanti dei classici sparatutti e dei giocatori che sono sempre alla ricerca di un gioco solitario incentrato unicamente sulle proprie abilità personali un tentativo in questo senso era già stato fatto con l'introduzione di compagni in case of war 2 pur mantenendo lo spirito cooperativo senza però riscuotere troppo successo anche nell'ultimo capitolo della trilogia della squadra delta in attesa di avere maggiori informazioni in merito vi lasciamo un'immagine pubblicata per l'occasione ok ragazzi io se potete sapere il mio parere sono molto soddisfatto di questa sempre introdotta questa questa modalità per il semplice fatto che tutti contro tutti ci vuole sempre ragazzi pure se pur se giochi a code a battlefield pure a battlefield mi piacerebbe sai quante bestime che volerebbe ma comunque è un'ottima notizia se è vera come cosa è un'ottima notizia ringrazio sempre il sito www.xbox.com per averla pubblicata e al prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao ciao ciao